Nelle prime ore della mattinata odierne i carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno eseguito due misure cautelari personali, uno in calcere ed uno agli arresti domiciliari, con applicazione di braccialetto elettronico emesse dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, settima sezione indagini, competente in materia di sicurezza urbana, nei confronti di un 41enne e un 33enne napoletani, entrambi note alle forze dell'ordine, gravemente indiziati del reato di furto con strappo pluriaggravato. L'attività d'indagine, svolta dal nucleo operativo della compagnia sotto il coordinamento della Procura Partenopea, ha permesso di accertare che i due, la mattina del 3 luglio 2023, a bordo di uno scooter travisati da caschi, avevano scippato gli orologi, di pregio del valore complessivo di 40.000 euro, indossati al posto da due turisti cinesi, in quel momento intenti a passeggiare lungo la centrale Via Toledo in compagnia dei figli minorenni. Il provvedimento eseguito è una misura cotolare corcitiva, disposta in serie di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti, fino a sentenza definitiva.